Buonasera a tutti quanti sono Serge de Miami di Torino sito in via Filippo Busio numero 8 Oggi siamo in presenza di tre bellissime splendide donne in quale c'è la Pono Diva Vittoria Risi Vittoria come trovi l'ambiente di Torino e come trovi le nostre maiemine? Beh io penso che tanto per... cioè non ci sono bisogno di parole no? Basta che guardiate qua, guardate come sono attorniata, quindi c'è tutta una serie di montagne, di curve che vi aspettano Miami già la parola dice tutto di questo locale, se venite non trovate che curve proprio all'americana, la Miami quindi ve lo consiglio vivamente per le notti calde anche perché insomma ci sono tutte le migliori porno star che si insomma si susseguono qui per le date e in più delle ragazze che trovate tutta la settimana guardate un po' qua, bellissime, che aspettano solo voi, quindi non posso che consigliarvi Miami Via Filippo Busio 8, Torino Per i miei fan inizierei col dire che siamo penso l'intrattenimento migliore di Torino per quanto riguarda l'erotismo, la simpatia e l'eleganza Circa Vittoria Risi penso che sia, parole mie, una delle porno star più fini, eleganti, sexy e mai volgare che ci possano essere qui Aspetta che qua dietro ho nascosto qualcosa La mancia Quindi per chi si vuole divertire penso che Vittoria Risi sia una garanzia, alla fine è una bomba, sia di simpatia, di sensualità e di erotismo Sempre Miami Love, insieme alla nostra fantastica veneranera Giselle Santa Domingo Io lavoro qua da tantissimi anni e mi trovo molto bene, come vedete è un bellissimo locale, fantastico, pulito, molto ordinato Mi piace molto, io vi aspetto a tutti quanti qua, ci sono io tutte le sere, da mercoledì a domenica, vi aspetto Se volete vedere un bel lesbo show e tante altre chicche, venite al Miami Love Mua!